Piazzale di Buglia Sottana. L'impermeabilizzazione e il sistema di raccolta delle acque piovane. La postazione di Buglia Sottana prevede l'impermeabilizzazione dell'intera area mediante la posa di un sistema di raccolta dell'acqua piovana. Sono stati collocati tre strati in successione. Uno strato di geocomposito in tessuto non tessuto, una guaina in PVC, uno strato di geocomposito drenante. I tre teli sono risvoltati per circa 40 cm sui fianchi delle vasche per annullare la possibilità di inquinamento del sottosuolo e della falda idrica. Le acque piovane raccolte sono così convogliate in canali interrati riempiti di pietrisco, all'interno dei quali sono posizionati tubi di drenaggio in polietilene con piccole fessure. L'acqua raccolta viene inviata a una vasca da dove poi sarà smaltita in appositi impianti. Il piazzale viene infine completato con uno strato di circa 40 cm di materiale inerte e da un secondo strato di circa 10 cm di ghiaietto.